Un rocambolesco inseguimento nel Vibonese è culminato nel primo pomeriggio di oggi con l'arresto di un corriere della droga. Si tratta di un 22enne di nazionalità albanese che voleva sfuggire ai carabinieri nonostante gli fosse stato intimato l'alt. L'uomo alla guida di un'opelastra ha forzato uno dei posti di blocco a presidio del territorio, investendo nella fuga a un militare, ma la sua corsa in auto è terminata nei pressi della rotonda di Santo Onofrio, non lontano dallo svincolo autostradale, quando il suo veicolo è finito fuoristrada dopo aver speronato l'auto dei carabinieri. Il malvivente ha poi tentato in vano di fuggire a piedi per i campi che costeggiano la strada provinciale, venendo poi raggiunto e arrestato dai carabinieri. Nella vettura del fuggitivo è stato rinvenuto un ingente quantitativo di marijuana, circa 50 kg. Per il corriere della droga sono scattate subito le manette e adesso accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Erika Consolo per la CNews24.